Non so se avete visto il gran delle boschi Sembra... Donnie Comunque se non avete visto il gran delle boschi guardatelo Beh cagare Poi tutti con una K47 Ma li vendevano in questo centro commerciale? Non so se vedevano in questo centro commerciale E' una moglieva forte Si tratta di sottosani Non mi lascio il mio figlio riuscita a questo Si vedi qua Alvin? Alvin? Ha passato un po' di ore, non può sentire nulla. Non c'è nulla di fare un racconto. Ma perché stai facendo questo? Siamo lui, abbiamo una storia, capisci? Un po' di cose che avevamo bisogno. Non sarebbe così preoccupato con il suo benessere se io ero tu. Non con te stessi così vicino al foglio di te stesso. Ora. Se sei sicuro di me dirvi la verità quando stai dove sei, e non termini in quella tavola. Potresti non credere questo, dopo quello che ha avuto prima, ma.. Io likevole di Reggie. Era un ragazzo divertente. Ci ha mantenuto le cose di lato. Nevevo gente così. E' facile lasciare la depressione in durante il tempo. Ma lui era buco. E non lo dico solo perché lui era buco. Questo non era il suo problema. Era un po' di wille e un po' di carattere E non possiamo avere questo qui qui, non più Non con quello che abbiamo a scopo Mi capisco C'era che tu eras una ragazza smarta Vedi che Reggie ci ha messo a rischio con la sua incompetenza Ha avuto una strada di scopi L'hanno c'è un po' di scopi Un'altra per salvare molti è parte della sua vita È una delle decisioni difficili che una persona sbagliata Non potrebbe fare C'è l'acqua che c'è da persone come noi Per aiutare loro alla sicurezza Hai capisco? Eh, vorrei che fosse un po' di differenza Ma sono piccoli E siamo forti C'è l'acqua che è l'acquittura Per aiutare le scopi Per aiutare le scopi È l'acqua di seguire Non per aiutare Mi capisco Devo fare tutto per loro È un po' di scopo C'è l'acqua Ma è l'acqua che hai pensato a giocare E siamo più olti Che pensi Non c'è una forma che Poi potessi essere così lungo Inoltre Ho capisco In quel cattone Tu eri assicurati Ma ti guardi a me Direi in l'occhio Stai l'acqua Nervi È quello che abbiamo bisogno Se avessi avanti La prossima generazione Ha bisogno di essere più forte Che la ultima Che ci aiutare Da ciò Di bambini Cosa 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 Non c'è Questo Il figlio Che non c'è Non c'è Se ho Qualcuno Che Non c'è Ma non c'è Nei Che 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 cosa che bisogna, io so che sono solo un figlio, ma farò il mio meglio. Chissà come lo farà a crash il figlio questo qui. E' tutto ciò che posso chiedere. Ok, ora... Bill? Sei qui? Mentre la tizia sta partorendo gli urla il figlio. Esci da solo! Non hai bisogno dell'ostetrica! Non hai bisogno dell'ostetrica! Cosa buono è? Le ruole sono tueche, quindi non si chiama tutto. Non credo sia un'emergenza o nulla, ma è qualcosa di stagio, ma guarda quando si può. Ehm... 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 Cosa mangeremo? Pasta e catarro? Oh no, è vero. Hanno un casino di... Di cibo loro, cibo in scatola. Poi come dolce un cucchiaio di letame. Come per... Per... Per scappare? Comunque sto dicendo... Scolta a me per scappare. Sarebbe figo tipo... Indebolire la struttura togliendo assi e roba del genere. In modo tale che quando arrivi Lord ci entri direttamente dentro e... Non c'è nessuno di noi. Non c'è nessuno di noi. E' quando andiamo. E' il nostro obiettivo. E' il nostro obiettivo. E' il nostro obiettivo. E' il nostro obiettivo. Lo che vuole qui voglio cercare... E' il nostro obiettivo. Scolta a Bill può fare. Cosa è la tua? Questo mi sembra di fare. E' quello che mi sembra. E' lo che non lo stia dicendo, ma... È sembra più comandante. Se può essere venire. Poi che Luca possa aiutare. Forse è venire. Il ha voglia un radio per aiutare a guardare. Grazie. E' il tuo progetto che io voto per. Tu conosci a Luca? Il nostro obiettivo quando Troy non si raro. Dicevano il nostro obiettivo. Dicevano il nostro obiettivo. se luke può dire ciò che sta succedendo con i guardi, possiamo usare questo per prendere un buon momento per evitare sembra abbastanza chi sa quando sarà? c'era una ragazza a Crawford che usava la chiamata per sentire walkers all over la città ci solo bisogna qualcosa di molto lungo il sistema che Carver ha sempre usato è abbastanza lungo c'è alcuni spettacoli all'interno, attraverso l'interno ho visto quando stiamo andando a lavorare troy è sempre stando nello di uno è certo, io ho visto anche c'è alcuni spettacoli è tutto controllo in la office di Bill c'è un switch in there che li avvicinare come sai che? io avevo fatto molte delle annuncementi in quel giorno ho avuto una volta che avvicinato l'unico non c'era nulla c'era abbastanza lungo è perfetto, abbiamo bisogno di andare in la sua office perché non ti diceva qualcosa più lungo? perché non cambia nulla questa non è una discussione su come fare è una discussione su se fosse stupido e è ancora stupido la cosa sensibile è non c'è Mmmh. Oh. Ma al tizio manca mezz'orecchio. Al nero, guardatelo. Oh, finalmente parli. Huh. Huh. Eh, infatti. Dove ne salta fuori davvero? Eh, infatti. Dove ne salta fuori davvero? La scala allora. C'è una scala. Oh. 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 Questo muore, me lo sento. Huh. Dai. Ma non facevamo prima. C'è una scala a fianco. Anche se c'è il filo spinato. C'è una scala a fianco. Oh. Oh. Via. Ecco, è ottimo. Infatti la scala... Eh. Stanno arrivando. Dovrebbe essere quella, Lorda. Sono un casino. Ok, dobbiamo andare nel magazzino. Ok, dobbiamo andare nel magazzino. Oh. Oh. Due o tre mila. Inchia. Lucchetto. Piano 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 piano. Tanto lì devo solo guardare. Eh. Ma dai, è tutto chiuso. Merda. E mo? No. Guarda come cazzo... Guarda come cazzo... Guarda come cazzo... Guarda come cazzo... Cammina. Ha fatto l'impressione. We learned a lot since last time. Is it enough though? Ah, c'è quello stronzo. Yeah. Yeah. Vabbè, io sto... Passeggiando tranquillamente se non senti i miei passi. Sì, ma che cacchio. È chiuso. C'è un lucchetto... Non possiamo fare niente. Allora... Ma forse è da qui. Guardate. È troppo... È troppo strano. Ah, ok. Ok, siamo dentro. Vattene da le palle. Oh, ce ne sono un paio. Eh, non lo so? No. Non lo so? Non lo so. E poi com'è? Come facciamo a tornare indietro? Non lo so. La homestead, almeno. Non nemmeno sicuro dell'espansione. Sono fuori, ma... ...movano. E' quello che facciano. E' davanti a me. 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 Ilhant. Non nemmeno. Non mi sono mai usati a me. Non mi sono mai usato a me. Ma... Un po' di forma, quando abbiamo avanti i più i nonni. E' davanti a me. 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 Ma cosa succede con lui? Troia l'espasso quando traiamo i presnitori. I... i noi. I. Se nonno non chiedo i presnitori. E' davanti a me. E' davanti a me. Ma non credo che abbiamo abbiamo lo che necessitiamo. dai ma puttana troia prendilo spedale out out non lo prende mica dai vedete ci mette la mano cristo ah fe aspetta allora no vaffanculo devo tenere premuto due uno non devi prendere anzi no due perché se lui c'è un walkie talkie come cazzo fa a comunicarsi le posizioni degli stronzi come minchia fanno non vedete vince come non mi dico se Bill si fanno un walkie talkie avrà avrà che pensi aspetta ma quel cinese mi ricordo davvero l'ho già visto il cinese non era il tizio del primo episodio di The Walking Dead mi pare dalla prima stagione praticamente era andato via cioè aveva preso una macchina e se non era andato via tranquillamente aveva detto che voleva andare per la sua strada prendimi mi pare sia lui non vorrei sbagliarmi prese ok domani devo portare altri ok non lo so non lo so probabilmente domani anche l'ultimo giorno Lord è vicinissimo cazzo Sì. Troy è venuto per il resto di voi. Allora, lui, noi facciamo qualcosa e dobbiamo farlo ora. E se Luke ci ha lo abbiamo, parliamo con lui. Posso farlo. Onde sta la scuola? Mike. Sì? Clementine dovrebbe farlo. Scusi? Non ho scuola. Non è vero, ma è vero, è una ragione. Cosa? 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 E mi sono scusate, Mike, ma non lo so di te, da Adam. E se mi credo a qualcuno che facci qualcosa di così importante, mi credo a lei. Kenny è vero. Mi dovrei fare. Non facci qualcosa di stupido, solo per dare un rispetto. Non bisogna il rispetto. Mi la radio. Ok, piccoli, andiamo a Becky. Ok. E non credo che oggi sarà come l'aventura. No modo. Noi sennanaggini. Questo rooster sarà surveillando la tua ass ogni secondo del giorno. Tu senti? Tu senti? Tu senti? Tu senti? E' vero che ho bisogno di una risposta, ragazzi. Ho senti, ok? Buono. Vieni. Vieni. Oh, tu hai tutti i nostri saci. Oh, vieni. Sì, vieni le antenne. sono tutti i nostri saci. Ho guardato. Sì, vieni la tua riassata. Sì, vieni la porta. Che cosa ha fatto. Oh, la via! E' vero che ci puoi. Chi ti può essere. ma che? Come merda faccio a dargli un kit o quel kit al tizio allora? Perché è vero che la persona che hai pensato che tu sei mai nascita. Ti sembra un ansioso, Clementine. C'è qualcosa di vero? Vedi che puoi parlare con me, certo? Mi ero disegnata quando ti metto prima, ma dico che non succederà mai avanti. Vediamo. Dai, ti prego. Bonnina. Se ti metti e ti metti il mio nome, Carver sarà il meno dei tuoi problemi, ok? Ma cosa stai aspettando? Ah, grazie! Bonnina! Mi stavi solo il culo, ma adesso un po' di meno. Sembra che tu sia la seconda a morire in tutta questa faccenda. Può trovare qualcosa di idiota. Luke, sono ancora in quel negozietto. Ok, quel pirla è andato lì. Luke. Luke! 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 Oh no, vedo del sangue. Nooo. Questo sembra veramente vecchio. Ah, ok. Sembra vecchio, allora sì. Luke! Onde è? Luke! Se tu stai scendendo, veni fuori. Ma che cacchio è quel pirla? Era dormito qui? Minimo l'aveva morso. Oh no! Oh no, ma beccato. Mi ha dato anche un ciaffone. Mi ha dato anche un ciaffone. Oh, complimenti, sei appena assalito nella lista. Sare il primo a morire. Nooo! Luke! E come è che siamo ripetati per la nostra fiducia? Con la traccia? Con il dolore? Con il dolore? Con la scuola? Cosa sta succedendo? Non lo so, Clem. Qualcuno che ti stai spiegando è finito. È finito. Non puoi solo riusci dal vostri problemi. Non puoi solo riuscire quando si è difficile. Ma che non puoi andare da dove non puoi. Ma che è tutto che abbiamo. Ma che questo con le tue le tue le tue le tue. Luke, non puoi te aiutare. Tu ti ti aiutare. Tu ti aiutare a me trovare la puenza per te perdere. Ora tu puoi iniziare. Per dire a me dove è il altro. Eh, gli adoro ormai, Luke, l'hanno beccato. Nooo. Tanto ormai l'hanno beccato, quindi, che senso tenersela? E' un po' di più. Non si sa cosa pensavo. E' un po' di più. Ah, f***er. Ah, nooo. Oh, Dio. Jesus Christ, stop! Stopp'l. Troid, fai qualcosa. Clementine, aiuto. Tu devi fare questo, Bill! Nooo! Stopp'l. Mi! 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 Ma scherzi! Bill! Bill! C'è sufficiente, Bill! Spera! Bill! Spera gli cazzo! Allora, tutti vengono con me. Bonnie. Tu guardi. Assurati che questi ragazzi non vengono in più problemi. Sì. Ok. Cioè, ha più coraggio Clementine degli altri... ...idioti. Oh, Bonnie! Sei difensato a parte del nostro gruppo! Ci vuoi salvare tutti! Io ti amo! Oh! Dio! Beh, c'è di buono che Luke è ancora vivo, siamo ancora tutti vivi! Cosa diceva? Diceva che si può riuscire dalla penna, se possiamo riuscire il sistema di P.A. La seconda che si sa, si può riuscire e ci riuscirà. E' bello! 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 C'è un po' più pescino! E' bello! E' bello che c'è! C'è una cosa, che cosa! C'è anche qui! Puoi... ...dia che chiede! Ciao! E' bello! E' bello! 1960? Ok, dovremmo prendere il tempo, e dovremmo aspettare per un'opera. Il corpo è accettato a noi oggi. E questo non significa che non puoi fare un'altra notte. Non lo so, ragazzi. Luke sta facendo sensazione. Magari dovremmo aspettare. Noi non aspettiamo. Non c'è nulla fuori, ragazzi. Credo me, ho guardato, non c'è nulla città, non c'è nulla città, non c'è nulla città. C'è solo che dovremmo essere sensibili a questo. Questo è vero non sensibili. Devemmo aspettare. Tutti tutti sono scopi, tutti sono sbagliati. Sì, ma quella sta piangendo a random. Boh. Non piange Clemente, che è una bambina. Questo è quello che sto parlando. Sì, va bene? Il suo orbitale è morto. Non credo che c'è tanta speranza per lui. Non c'è nessuna o pensiero, è risultato la stagione. Mi lascio. Mi asciuto le spectombe, ho detto più di bambina, ha fatto il proprio che ha la prima delle sue. Ma fino a при di che è riuscì, non vediamo da non c'è nessuna pe di chiama. Di venti, come znaic. Ok, ok. Posso solo che, come ando a fare diandalismos, ma se... Ma se siete tutto sono stagione di farlovi, Quindi dovremmo cominciare a parlare, magari, di lasciare alcune persone di attraverso. No! Non c'è un altro modo. Questa è vero. Non mi piace anche, ma guarda cosa? È dove stiamo. Kenny e io sono solo qui perché di te persone. E ora ti intendo lasciarmi attraverso attraverso. No, non stiamo lasciando Kenny. Non è vero, stiamo insieme. La vita non è vero, Clem. Stiamo cercando di fare la migliora situazione qui. Noi vogliamo lasciare Kenny. Bene. Perché... Tu non hai bisogno. Oh, che nino! Sto bene, figlio. Stiamo tornando oggi. Il plan non cambia. Non è vero, figlio. Grazie, a*****o. Non è vero, stupido. Stupido, stupido. Stupido, stupido. Stupido. Suoi, stupido. Stupido, stupido in fronte di tutti. Sai bene? Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Sei bene. Eh, chi dovrà mai farlo? Tadààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà E che musica sarà? Degli OCDC? Ripetimelo. Ok. Vedrete che mi dimenticherò. Ok, dobbiamo andare nell'ufficio di quel cogliore, attivare gli altoparlanti. Avviare la musica. E puoi tornare nel magazzino. Superstar? Alvin Superstar? Che cazzo si riferisce? Ok, allora. E poi tu fai... Da lì com'è cazzo fare a ritornare nel magazzino? Alvin! Parla! Alvin, in che condizioni sei? Alvin? O... Are you okay? Senti, questo qui è morto. È stato diventato uno zombie. Poi come cazzo lo faccio a portare Alvin con me? Questo qui è morto, ma lo sento troppo. Vabbè, fottiti. Non manderò puttane. Ok. Questo. Stiamo di amplificazione. Era vicino al microfono, ha detto. Ok, ora il mic. Pronti? No, come non va? No, come non va? Ah. Lettore cd. Cosa mettiamo? Ci serve una canzone. No, no, no. No, dove sono? Eh, dai, avranno più di un cd. Là, eccolo il cd. No, come non va? Cosa? Un po' di un CEO. Il 4 ottimo il cieco si vuoi bene, che ciò che vanno fredi. Con il tuo varia e i lucii delle nostre per費no di, per riscaldi. Alvin! È che... È che! È che è il cuore? Carver chaine di parmi il cd. Non c'è una macchina, non c'è la macchina più piccola del universo. C'è qualcosa di divertente. Tu hai il progetto, noi abbiamo il know-how. C'è una macchina. Posso avere la macchina? Jézus, Jézus, non mi faccia riuscire. È troppo pesce. Non mi lascio il mio ultimo attore di fare una macchina a un bambino. Cosa parla? Cosa parla? Che cazosa? Non c'è nessuna macchina, ragazzi. Deve essere qui, non ci sono qui. Grazie. Oh, grande Prendigli la pistola con l'altro tizio Ok, ha detto il magazzino Mmm, arrivano Qualcuna sparata No Oh, ciao, coglione Sparagli, sparagli, perché poi ce ne pentiamo Sparagli E' in dufina Morto Perché l'ha gonfiato anche di botte Quindi non poteva muoversi L'ha reso un vegetale quasi Alvin Uccidilo Uccidilo Sparagli, cazzo Che fai? Ancora Sparagli Grande Occhio per occhio Toggi un occhio Vedo quello l'ho tolto da te E poi ammazzalo Grandissimo Kenny Però era Io voglio rimanere a guardare Io voglio vedere Io voglio vedere L'ha già visto più Che potessi Sparagli Sparagli Bill No, non. Tu tutti gli gli lasciano farlo? Non sto a andare a niente. Va a fare un pollo. Lo vedo. Guarda tu, tui ingrati. Non sapeva quanto bene ti ho fatto. Si, ok. Tu aprendi. Sì, sì Ma fatti i cazzi tuoi Voglio vederlo Tra l'altro ha una pistola Grande Kenny Ancora Ancora Oh sì Se l'hai meritato Uno che è partito Minchia E' cominciato proprio per benino Kenny Grande E gli altri tizi dove cazzo sono? Prima era pieno il posto Adesso non so dove siano andati Sputagli in testa Grazie della pistola Ciao Carver Ha avuto ciò che si meritava Però voglio anche L'altro tizio Guardatele Tranquillo Ho perso Stanno tutti sparando Ecco perché non Non c'erano Stanno Sono impegnato Civili zombie Vorrei uscire anche l'altro Quello che mi ha dato Schiaffo Schiaffo Mi ha dato uno schiaffone C'è C'è Codu Chi 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 Chiaffo Chi Chi ah ok dobbiamo... eh oh che schifo mettiti anche l'intestino come è sciarpa oh mettiti ora lì eh indovina perché non mi sarebbe messo l'intestino come sciarpa no no che cazzo che non coglia non mi sarebbe avvicinando così tanta hai grande papatevelo si che bello si che bello si vabbè quelli stanno sparando magari beccano anche noi oh gesù maria ci hanno beccato a lui ecco qui oh no eh infatti si è beccato un proiettile mo se la mangia anche lei ah dai colpa di quella cretina siamo in mezzo ad una cazzo di orda ops ah gli sta mordendo la la mano oh yes e taglio il braccio direttamente ti salvo la vita cretina mi è sembrata una cosa più sensata da fare che cazzo facciamo altrimenti era meglio farlo subito sul momento oddio non è finito no come la prossima volta mi chiude l'episodio così di colpo l'ho salvato il culo non puoi lamentarti di certo eh gli occhielli di Sara non vado niente sarà già morta non è finito 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 Carver mi ha scoperto come questo ovviamente ho avuto non è finito non è finito cosa che questo uffio ti avrebbe fatto allora come si sembra mi sembra ancora beccato quando ci sceglie ovvio mmm merda devi andare pasto questo walker senza ritrovare tutti gli altri cosa fai fare non è finito non è finito non è finito non è finito che figo che figo come moriranno tutti nooo allora tu al 77% avete aiutato ok gli avete dato boni di Luke al 50% ho messo di ruba walkie talkie 42% oh il 69% hanno guardato Kenny che uccideva Carver e l'83% ha tagliato il braccio a quella lì quindi perfetto sì sì è perfetto oh mi è piaciuto mi è piaciuto parecchio sì sì mi è piaciuto adesso dobbiamo aspettare l'uscita del quarto e anche della traduzione ragazzi ve lo ripeto ad ogni episodio ma se non c'è la traduzione io non lo faccio prefisco farlo con la traduzione ringraziamo il team che ha fatto la traduzione gratis perché non li paga nessuno ovviamente li ringraziamo e allora adesso dovremmo fare vabbè ovviamente Daisy lo continuiamo è una serie infinita ve l'ho sempre detto quindi non ditemi ogni volta è Daisy e Daisy dove dov'è la partita di Daisy quando lo fai Daisy Daisy lo farò sempre però non non sempre sempre nel senso che non ho il tempo sempre di eh registrare la parte perché eh contate che anche è online il gioco quindi non è ad esempio come un gioco offline che posso oh cacchio non posso superare sta merda ah non è come un gioco offline che posso giocarci sempre quindi o carico video o gioco a Daisy e questo è il punto quindi devo sempre scegliere o carico a Daisy o o carico i video quindi solitamente gioco a Daisy la domenica eh adesso comunque sia dobbiamo fare ehm Sniper Elite 3 eh poi non lo so sinceramente non lo so Sniper Elite 3 eh altri giochi sinceramente nuovi che mi interessino non ce n'è quindi dobbiamo vedere sicuramente vedrete qualche altro titolo perché ne ho già un paio comprati su Steam vedremo devo decidere quale fare ragazzi vi ringrazio per il supporto spero che vi sia piaciuto anche quest'altro episodio aspettiamo il quarto non so quando esce non ho la piccola idea chissà quando c'è anche la traduzione uscirà qualche mese dopo ehm beh ci vediamo al prossimo alla prossima serie ciao a tutti